benvenuti allo stand thule all outdoor 2015 siamo qua lanciando due nuove serie di technical backpack zaini per il trekking hiking thule versant e thule star il primo thule versant è quello per più giorni di un andando da misure da 50 litri in poi con sempre il concetto di thule che il perfect fit deve essere giusto per il tuo corpo con la possibilità di allungare il torso e anche aggiustare il bacino anche un concetto di essere per tutti i tipi di tempo abbiamo fatto un coperchio coperchio del 2 terzi del corpo con un rain cover ma anche con una struttura più densa per il sotto del zaino dall'interno dallo zaino abbiamo in un impermeabile che vuol dire che hai anche la possibilità quando non piove mettendolo giù in bagno o bagnato sulla terra abbiamo anche la possibilità di avere un lead to summit pack davvero confortevole e facile da portare e è anche come una cosa extra la possibilità di mettere dei accessori vari come una bottiglietta o un pocket ad extra che si clicca dentro sul portino e abbiamo anche la serie tool star che sono il nostro serie di per una giornata sola anche lì con la giustabilità della possibilità di proprio fare il fit perfetto per te